Ancora quattro decessi covid in Irpinia. Al Moscati si sono arresi nella lotta al virus un 87enne di Serino, una 73enne di Manocalzati, un 66enne di Cesinali e un 96enne di Lauro. È positivo anche il segretario della Willi, Irpinia Sannio Luigi Simeone, chiusa precauzionalmente per qualche giorno la sede del sindacato di Via Tagliamento. Sono 89 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 9 nel capoluogo, 8 a Grotta Minarda, dove dopo giorni di lockdown ci si prepara a riaprire con grande prudenza. Nel momento in cui c'è stata l'esplosione più forte dopo Pasqua, con un pic di 72 contagi positivi, abbiamo fatto quelle decisioni drastiche, chiusura delle scuole, chiusura del cimitero, chiusura dei mercati, mercatini, tutti gli spazi verde con contenimento massimo. Adesso diciamo che la Santa Minarda si prepara con la dovuta prudenza, facendo le massime raccomandazioni di ordine sanitario, distanziamento, mascherini. Per fortuna le vaccinazioni stanno procedendo anche abbastanza rapidamente. Ci prepariamo ad una prudente, ad una super prudente riapertura per lunedì. Sul fronte vaccini sono quasi 120.000 le dosi somministrate finora. Il 25% circa della popolazione adulta ha ricevuto la prima inoculazione, il 10% circa, anche la seconda. Ma arriva il grido d'allarme dei sindaci dei piccoli comuni, dove si procede ancora troppo lentamente e con evidenti discrasie. Ci sono ancora delle frange di ultrasettantenti che non sono stati chiamati per la prima inoculazione vaccinale.